Inizio il secondo incontro del ciclo donne ambiente organizzato a cura del gruppo ecofeminismo di Ecoistituto Regge e oggi l'argomento è verso il neocolonialismo digitale e io vi presento i relatori che appunto contribuiranno a realizzare questo evento. Sono Laura Cima che è nata a Torino, laureata in lettere e filosofia, docente, attivista femminista fin dagli anni 70, fondatrice del Partito dei Verdi, impegnata nel movimento antinuclearista, deputata, senatrice, presidente del gruppo parlamentare Verde. Ha fatto anche parte, e credo che questa sia una parte molto importante della sua attività, della Commissione per la Parità Trauma e Donne per la presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata anche assessore e vice sindaca a Moncalieri e vorrei ricordare i suoi testi che sono soprattutto appunto quelli di interesse per l'argomento anche nostro, il complesso di Penelope, le donne e il potere in Italia, l'ecofeminismo in Italia, le radici di una rivoluzione necessaria. Io ricordo sempre di Laura e lo ripeto che è una delle poche diciamo non solo appunto autrice di tanti libri ma anche di una proposta di legge che a mio avviso resta una proposta interessantissima che c'è sulla riconversione dell'industria bellica in industria eco-compatibile. Se questo progetto di legge fosse stato poi diciamo messo in campo davvero dal nostro Parlamento e in generale poi appunto dalla politica forse oggi avremmo una situazione anche diversa. Per quanto riguarda Paolo Groppo ha lavorato alla FAO per 30 anni, si è occupato di riforma agraria, lui aggiungerà magari anche elementi interessanti della sua biografia, si è occupato di diritti fondiali delle comunità locali, dei diritti delle donne alla terra e di sviluppo territoriale e di conflitti legati alla terra. È stato editore della rivista Riforma Agraria della FAO dal 1992 al 2007. Ha pubblicato, quindi ha scritto anche romanzi, ha pubblicato vari romanzi su tematiche come il land graphing, quindi Marne Rosse e Limambos. Gli ultimi libri pubblicati, La crisi agraria ed ecogenetica spiegata ai non specialisti di meritemi editori del 2020 e quando Eva bussa la porta, donne, terre, diritti, ombre corte 2023. È una figura molto importante soprattutto per la sua ricchissima esperienza. In questo evento ci sarà poi anche un contributo di Gabriella Taddeo che verrà presentata da Laura Cina. Io mi fermo qua. La parola a Laura. A Laura, va bene, grazie Pinuccia. Allora io devo dire che oggi vorrei proprio parlarvi di Europa per una serie di vicende recenti che sono importanti sia per la tragica situazione a Gaza e anche quella degli ospedali. Sapete che non c'è più né acqua né carburante, quindi anche i bambini sono stati tolti, quelli prematuri, dalle incubatrici e adesso sono stati anche bombardati diversi ospedali e quindi la situazione è veramente drammatica. Questo esodo continua e non manca cibo, manca acqua oltre che il carburante. Voglio parlare di questo perché finalmente ieri Borrell, che nel Consiglio degli Affari Esteri, dopo un mese e più di silenzio dell'Europa, ha annunciato che andrà in missione in Medio Oriente. Insomma, siccome mi pare evidente la difficoltà europea di intervenire in tutto questo periodo, in questa situazione, di mettere d'accordo gli Stati, di mettere d'accordo il Consiglio e Commissione del Parlamento di intervenire, mi pare che comunque questo sia un passo avanti che ci dà un minimo di speranza. Intanto sono anche interessanti i punti che lui ha deciso di portare avanti. In ogni caso la sua missione sarà piuttosto ampia, nel senso che non solo starà in Israele e in Palestina, ma andrà anche in Arabia Saudita, vi ricordate che c'era tutto il discorso degli accordi di Abramo e quindi non so se ci sarà un tentativo di farli rinascere, non ho idea, vedremo, saremo attenti, andrà in Qatar, andrà in Giordania, andrà in Bahrain a sostenere i due Stati. È chiaro che da adesso diventa difficile capire dove potrebbe essere uno Stato palestinese dopo il bombardamento a tappeto di Gaza che continua e anche i coloni che si sono armati, anche in Giordania mi sembra che ci sia una situazione molto difficile. Però finalmente un sospiro di sollievo rispetto al fatto che l'Europa non è più totalmente assente come è stato finora, perché io mi vergognavo anche un po', devo dire onestamente, di questa incapacità diplomatica di tutti, ma anche della nostra Europa, oltre che dell'Italia, dove do un po' più scontato insomma, visto che non ho particolare stimo di chi governa in questo momento. Il fatto che Borrell abbia deciso quali sono i punti che vuole sostenere in questa sua missione sono tre sì e tre no, ha detto. Io ve li dico perché mi sembra importante. Pensando sempre agli ostaggi che sono ancora là, non si sa bene che fine faranno, e pensando a tutti i morti che ci sono già stati, in particolare altissime percentuali di bambini. Allora, primo sì è a un'autorità palestinese, dice Borrell. Pare chiaro che non sia abumazzo, ma non si capisce bene quale potrebbe essere questa autorità palestinese che dovrebbe essere legittimata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi c'è anche un collegamento con il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sappiamo che il Consiglio di sicurezza funziona difficilmente perché c'è ancora il potere del vetto conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale delle potenze vincitrici. Il sì, l'altro, questo è anche interessante, ha un forte coinvolgimento dei paesi arabi nella soluzione politica. Un sì ha un maggior coinvolgimento dell'Unione Europea, devo dire, un maggior coinvolgimento è un po' ridicolo, visto che finora è stata totalmente assente l'Unione Europea, nella regione per costituire lo Stato palestinese. Anche qua lo Stato palestinese è dove, vista la situazione che c'è, perché ormai Cisgiordania e Gaza sono in una situazione sempre più difficile. Il no invece è questo, diciamo, questi sì sono per costituire lo Stato palestinese e per evitare che la violenza si tramandi di generazione in generazione, perché è chiaro che i giovani sono radicalizzati in situazioni di questo genere, quindi non si può immaginare facilmente una pace che verrà mantenuta anche quando finissero i bombardamenti. Il no è il fatto che ci siano corridoi, devono esserci corridoi umanitari, aiuti, acqua, carburante e cibo pronti al confine che vanno consegnati, questo sta ancora nel sì, ovviamente perché la situazione non è più gestibile. Allora, il problema di capire come procedere in questa situazione è veramente molto difficile e si spera che questo intervento di Borrell possa portare una nuova voce diplomatica, ma soprattutto si spera che l'Europa esca da questo silenzio. Vorrei parlare appunto anche dell'Europa perché in questi giorni l'Europa dovrebbe finalmente decidere di mettere fuori legge il griso forzato e sapete che questo è un veleno pericolosissimo che continua a essere diffuso ovunque e di cui si è chiesto più volte il fatto che venisse vietato, ma la Bayer e la Monsanto sono delle lobby potentissime e finora non si è riuscita a farlo. Il terzo motivo per cui vorrei parlare di Europa è che è in corso la revisione del Trattato di Lisbona e io ho seguito i lavori del Movimento Federalista Europeo che mi sembra quello più in grado di dare dei giudizi su come sta andando avanti il dibattito sulla piattaforma sul futuro dell'Europa, su questo processo costituente che dovrebbe finalmente partire e ci sono una serie di critiche già molto consistenti. Per esempio non c'è nessuna forma strutturata di dialogo con la società civile prevista, quindi l'Europa rimane quella cosa là lontana che non parla, non solo con gli stati se non per, come dire, ricevermi ricatti reciproci nel Consiglio come sappiamo benissimo, ma con i cittadini degli stati non parla e non c'è nessuna forma strutturata di dialogo con la società civile e di democrazia partecipativa. Però dovrebbe essere eliminato il voto all'unanimità che sapete finora ha bloccato tante decisioni. ma la cosa più importante che il Movimento Federalista Europeo mette in luce è che siccome l'Europa stranamente nonostante non sia riuscita più di tanto a fare diplomazia e avviare processi di pace, tanto o meno in questo periodo, ha ricevuto nel 2012 il premio Nobel per la pace, se forse non ce lo ricordiamo più, ma questo indurrebbe a insistere perché nella Costituzione europea venga ripreso il nostro articolo della Costituzione italiana del 48 e quindi venga ammesso, ho scritto che l'Unione Europea ripudierà la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie politiche migratorie. Io credo che sia molto importante tutta questa fase e che dobbiamo un po' seguire quello che succede. La seconda cosa però non vorrei sorpassare il mio tempo perché sono quasi a termine, poi vorrei passare la parola a Gabriella che ci ha seguito anche nella scorsa lezione e quindi vorrei che parlasse e vorrei presentare quello che la volta scorsa non sono riuscita a presentare ma che credo rimanga molto attuale e che vorrei che presentassimo come decalogo anche rispetto alle elezioni europee, come decalogo ecofeminista, come l'abbiamo presentato alle politiche in Italia, perché sapete che tra 200 giorni circa si vota per l'Europa e quindi sarebbe importante che, perché tutti questi processi vadano avanti con qualche speranza, non prevalga le pene o altre forze che sicuramente distruggerebbero l'Europa, i sovranisti e così via, ma invece prevalga il consenso, la capacità veramente di riprendere lo spirito di Ventotene e il manifesto di Ventotene, di Spinelli e dei confinati durante il fascismo. Quindi per quanto riguarda il decalogo, vi dico che c'è già la pubblicazione sul sito che sta all'Ecoistituto e vi dico che la cosa importante è che noi sosteniamo Ecofeministe, che è ora di un cambio di paradigma, perché in questa situazione di guerra, di violenza, di violenza anche personale nei confronti delle donne, femminicidi, sapete che ci sono di nuovo due giovani 22 anni che sono spariti e non si sa se di nuovo è successo in qualche dramma, le famiglie sono agitatissime da saluto scorso e queste cose si ripetono. Le donne sono esperte di relazioni eque tra le persone nel rispetto delle differenze, sono per una società della cura che non deve essere la cura, come ho detto già anche l'altra volta, del lavoro domestico gratuito, ma una cura politica. per l'abbraccio alla madre terra e le specie che ne abitano, questo abbiamo scritto. Il primo punto del nostro decalogo è il fatto che il cognome materno finalmente anche in Italia si deve dare ai figli, c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale in merito, abbiamo raccolto 50.000 firme su questo tema e il Parlamento continua a rimandare questa decisione, per dire che il peso patriarcale è ancora molto forte nelle nostre istituzioni e ci sono diversi provvedimenti, credo che sarebbe interessante che potendo dare già il cognome materno in accordo troppo con il padre perché non c'è nessuna possibilità per la madre di decidere autonomamente, per ora, nonostante la sentenza della consulta, si desse questo cognome, cioè cominciassero a comparire i cognomi delle maldi per i figli. Questo è una delle prime rivendicazioni che noi abbiamo portato avanti. la cura come stile politico complessivo, come dicevo, e anche il riconoscimento concreto e formale del lavoro di cura e, ne ho già forse accennato la volta scorsa, non solo il PIL che misura strettamente una ricchezza, ma il BES, cioè il benessere ecosolidale, che quindi comporta anche questa capacità di cura della società e, per esempio, rispetto al lavoro che la nostra Costituzione mette a fondamento della Repubblica, deve essere garantito a tutti e a tutti, mentre invece sappiamo che le donne in particolare e i giovani hanno grandissime difficoltà e la transizione ecologica e il contrasto della catastrofe climatica è il terzo punto e poi c'è il, tra la transizione ecologica e il fatto che non vanno fermate le grandi opere inutili e distruttrice, il Ponte della Missina è un esempio tipico che purtroppo ci troviamo di nuovo, abbiamo già speso un sacco di denaro nelle varie studi, eccetera, ed è pericolosissimo in una situazione, come sapete, di terremoti e così via. Allora, ci sono poi politica dell'immigrazione, nascere bene, contro la violenza delle donne, riforme, investimenti per la scuola pubblica, spese militari, fine, ne ha già parlato più, cioè quindi io non insisto più a diffondere delle armi. e a questo punto inviterei Gabriella che è un'esperta per intanto di intelligenza artificiale e quindi credo che anche prossimamente quando discuteremo ancora di altri temi potrà portare il suo apporto, potrà portarlo anche nel caso in cui ci sia qualcuno che segue, che ha interesse a questo tema e ha una casa editrice in cui pubblica sostanzialmente libri di donne interessantissimi e quindi è anche importante e anche può consigliare testi sui vari temi che noi stiamo discutendo anche di altre case editrici perché è un'esperta in questo tema e poi soprattutto stando a Trieste è al confine con la Slovenia quello che è stato chiuso quando è decaduto il patto di Schengen proprio per paura di conseguenze durante la guerra che è in corso e quindi ha una serie di cose che credo sia importante da dire e cedo volentieri metà del mio intervento come avevo chiesto all'inizio che potessero partecipare anche allievi tra virgolette, lei non è un'allieva ovviamente ma comunque chi sta seguendo le nostre lezioni e le ringrazio Pinuccia, le Costituto e tutti Grazie Laura e volevo anche ricordare che il titolo è verso un neocolonialismo digitale giusto perché forse non l'avevo citato all'inizio ma è importante quindi a te la parola Gabriella Grazie mille, mi va benissimo mettermi nel banco delle allieve assolutamente anche se sono sempre stata un'allieva indisciplinata che faceva troppe domande per cui ecco ben volentieri, vi ringrazio dell'invito e niente partirei prima di parlare delle cose che mi ha chiesto Laura di cosa si fa qui all'estremo nord-est eccetera e diciamo che proprio di oggi l'incontro tra la nostra premier, bene amata premier e Golob che è il presidente della Slovenia e proprio oggi la grande discussione qui il fatto di avere in qualche modo interrotto e sospeso Schengen sta creando delle difficoltà non da poco e non solo per quanto riguarda i trasfrontalieri perché ormai veramente da tanti anni i confini sono caduti e Trieste ha iniziato a respirare perché prima Trieste aveva veramente un'introterra davvero piccolo e così anche Gorizia e così anche Gorizia che ricordiamo era una delle città divise in due come Berlino ecco e in questi giorni c'è una crisi abbastanza profonda perché nel 2025 ci sarà Nuova Gorizia che è la parte slovena diciamo di Gorizia e Gorizia ci sarà il progetto del capitale culturale proprio europea per cui un progetto assolutamente innovativo perché per la prima volta la capitale della cultura sarà mezza città italiana e mezza città slovena e questo anche dal punto di vista simbolico non è da poco bisogna dire che i due sindaci delle due città Gorizia e Nova Gorizia hanno già intrapreso tutta una serie di iniziative proprio di omologazione, di intrecci le linee dell'autobus per esempio non si interrompono cioè sono continue ormai la gente non dice vado a Nuova Gorizia dice vado in quel ristorante come posso dire io amici che abitano lì il fatto di avere c'è la piazza la cosiddetta piazza europea dove non hanno usato mettere i controlli perché sarebbe stato veramente pesantissimo però si rischia grosso se questa cosa non viene ripristinata immediatamente c'è la libertà della circolazione perché si compromettono tutti i progetti che sono in essere insomma e che vorrebbero essere proprio simbolici all'interno dell'Europa per cui è una cosa molto molto delicata e oggi Meloni ha detto sì che questo sarà temporaneo in realtà da quanto si sa con la scusa di poter dimostrare che loro bloccano quella che è la cosiddetta rotta balcanica la stanno procrastinando hanno già esteso per altri 20 giorni per cui si arriverà Natale e così via non sono segnali assolutamente positivi ma sono pretestuosi perché fanno vedere che loro in qualche modo gli immigrati li bloccano le rotte migratorie cosa che non è assolutamente vero perché poi i confini presidiati sono i confini grandi diciamo tra Slovenia e Italia e sicuramente i cosiddetti immigrati clandestini una persona che io proprio detesto non passano sicuramente di là ma vanno per i boschi della Slovenia e arrivano nei boschi del Carso Triestino per cui è tutto veramente una distorsione anche nei messaggi nelle comunicazioni e così via questo così per parlare d'Europa e per vedere come si sta rovinando anche qualcosa che poteva essere invece molto prezioso qui ci sono moltissime associazioni Linea d'Ombra la conoscete ma non è solo Linea d'Ombra che si occupa delle persone che provengono dalla rotta balcanica ci sono anche altre associazioni la stessa Casa Internazionale delle Donne di Trieste si occupa delle donne che arrivano pochissime ma ci sono e in qualche modo quella che proprio è assente è proprio la parte istituzionale in quanto ci sono 300-400 persone che dormono nel fango attorno alla stazione per cui assolutamente è una situazione vergognosa ecco giusto per questo così per collegarmi un po' a quello che diceva Laura sul discorso Europa e su come questa società della cura in questo momento si fa sentire almeno dalle nostre parti solo da parte delle associazioni e per la prima volta anche dalle istituzioni religiose abbiamo cambiato il vescovo e devo dire che si è già preoccupato già nei primi mesi di cui ha preso questo incarico di trovare dei posti letto presso le chiese ecco questa è una grande novità sta seguendo ma ha anche organizzato una sorta di ritrovo di preghiera comune anche con le altre comunità religiose a Trieste tra l'altro c'era anche il rabbino di Trieste c'era l'imam e anche quello che è referente il poppe non so se si chiama poppe della chiesa greco-ortodossa di Trieste è stato un bel momento a cui ho partecipato ed emozionante vedere sia pure queste realtà religiose da brava laica io sono andata lì però secondo me dal punto di vista simbolico è stato e speriamo anche operativo sia stato un passo avanti insomma nella gestione proprio di questa situazione per quanto riguarda poi la sollecitazione fattami da Laura relativamente e anche da Pinuccia agli aspetti digitali che in qualche modo pervadono le nostre vite attualmente sono stata invitata in più occasioni a parlare proprio dell'impatto che il digitale in particolare questa area che viene di questa disciplina che viene definita intelligenza artificiale ha sulle nostre vite un pensiero sempre legato al discorso della guerra è che effettivamente i dubbi che mi vengono sempre anche sentendo i vari telegiornali leggendo quello che dicono i reporter di guerra non si parla mai delle tecnologie che vengono utilizzate in queste guerre attuali parlo sia dell'Ucraina parlo sia dell'Ucraina e Russia e parlo anche della Palestina e di Israele si vedono ancora una sorta di conflitti come se fossimo nel medioevo si siano i fucili invece delle come dire delle armi più rozze però nessuno sa e non trapele io non so riuscita a trovare quali tecnologie vengono utilizzate oggi in queste guerre che potrebbero evitare una serie infinita di morti tra i civili parliamoci chiaro e questa è una riflessione che lancio anche alle persone che ascoltano perché sarebbe di che approfondire non a caso poche settimane fa qui a Trieste che è famosa anche per la sua cittadella scientifica e c'è stata promossa da un mio caro amico fisico Sandro Scandolo dell'ICTP che è dove ha lavorato anche Rubia e così via un convegno internazionale di fisici e di esperti di intelligenza artificiale da cui ancora non è trapelato nessuna relazione eccetera ma è stato un momento molto importante perché molti di loro sono per il disarmo totale fanno parte dell'associazione di fisici per il disarmo e io mi auguro effettivamente che possa nascere una qualche proposta a livello europeo ma mi viene da dire anche internazionale da queste menti quello invece di cui mi occupo io e soprattutto dell'impatto che le tecnologie in genere ovviamente tutte intrise di software di intelligenza artificiale hanno sulla popolazione e in particolare anche su quelle che sono le cosiddette fasce più deboli della popolazione e ci sono delle statistiche che in qualche modo denotano come sono dei report anche ufficiali come in Italia pur e parlo dell'Italia in questo caso pur essendo altissimo l'utilizzo che si hanno di varie tecnologie piattaforme e così via la cultura digitale è molto bassa siamo tra gli ultimi posti mi pare proprio al 25esimo posto se non ricordo male per quanto riguarda le competenze digitali diffuse tra la popolazione per cui questo a livello europeo per cui tra gli ultimi posti a scuola ancora non si insegna si lascia molto ci sono tutta una serie di fasce di persone che magari non fanno ancora mestieri che sono legati al digitale parlo di artigiani eccetera eccetera anche se sempre più anche questi utilizzano la tecnologia però non hanno quelle cosiddette competenze che potrebbero in qualche modo difenderli dai reati in rete quelli che sono i cosiddetti reati in rete e questo in generale in particolare la fascia più esposta anche se molto più digitalizzata diciamo è proprio quella degli adolescenti e dei ragazzi che sono molto molto esposti da questo punto di vista Gabriella credo che sia terminato il nostro tempo ce lo deve dire Pinuccia però forse ecco allora vi mostro solo direi di lasciare chiudere perché è un discorso interessante quindi sì vi faccio vedere solo questo se riesco riuscite a vederlo sì ecco questo è quello che succede in un minuto in internet per cui quando si parla di ambiente di digitalizzazione che poi andremo a approfondire forse ci dice questa questa slide ci dice dove siamo nel mondo qual è l'ambiente digitale qua potete leggere i numeri questo succede in un minuto nella nostra vita ok e poi ci sono da qui scendono tutta una serie di statistiche di quanto tempo noi oltre che di spazio occupato lì in altrove non a casa nostra ma in rete anche i tempi in cui stiamo in una in un mondo che non è il nostro mondo fisico analogico chiamiamolo così e da qui tutta una serie di reati che possono avvenire in questo spazio e in questi tempi e questa è la mia analisi futura che in un eventuale intervento futuro grazie grazie gabriela molto interessante quindi penso che confideremo appunto di organizzare nella seconda ciclo anche proprio un tuo contributo scientifico su questi aspetti che sono molto interessanti e adesso darei davvero grazie di cuore darei la parola a questo punto a Paolo Groppo per il suo contributo sull'argomento sempre verso il neocolonialismo digitale sì io chiedo a Christopher si può mandare il video direttamente così siamo sicuri anche sui tempi buongiorno a tutti e a tutti eccoci qui per la seconda sessione del nostro corso il titolo di oggi è verso un neocolonialismo digitale partiamo da quelle che ho chiamato l'età dei sogni per capire da dove venga il terzo stadio dell'attacco il neocolonialismo digitale dobbiamo però tornare indietro brevemente dalla fine della seconda guerra in poi per arrivare al punto di svolta rappresentato dal summit della terra realizzato nel 92 a Rio il rapido aumento della popolazione mondiale dopo la guerra ha fatto emergere l'esigenza di un modo più moderno per garantire la sicurezza alimentare per cui sono aumentati gli sforzi di ricerca sulle principali culture maes grano riso e si è creato nel 71 il gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale CGEA l'obiettivo di questo gruppo era la conservazione delle risorse genetiche ed assicurare la diversità genetica delle coltivazioni ricordiamo che è l'ente di ricerca agricola più influente nei paesi del sud perché c'era bisogno di tutto ciò nella seconda guerra mondiale lo sapete bene la fame si distinse come uno degli esiti più devastanti e duraturi con gli europei che dovessero affrontare carenze alimentari razionamenti osteri inverni tetri ma non furono solo gli europei anche altrove nel mondo si realizzarono in quegli anni delle carestie per esempio quella del Bengala molto conosciuta 2-3 milioni una carestia in Russia un milione di morti quella in Iran meno conosciuta di cui il numero totale dei morti è tuttora disputato la risposta a questa crisi alimentare fu la rivoluzione verde che spinse ulteriormente un passaggio dall'agricoltura contadina a quella industriale basata sull'uso di un numero limitato di varietà ad alto rendimento dosi abbondanti di fertilizzanti e pesticidi e molte irrigazioni questo passaggio ha generato quello che gli esperti hanno chiamato erosione genetica come risposta i centri CJR hanno iniziato a creare le proprie collezioni e banche del gene per garantire la conservazione delle varietà per la ricerca l'industrializzazione dell'agricoltura nei paesi del nord globale ha portato alla privatizzazione del settore ricerca-sviluppo e quindi l'importanza crescente dei diritti di proprietà intellettuale il summit della terra del 92 vide la firma della convenzione sulla biodiversità la CBD con tre obiettivi dichiarati la conservazione della diversità biologica l'uso sostenibile dei suoi componenti e la giusta ed equa divisione dei benefici dell'utilizzo di queste risorse durante queste discussioni emerse anche la questione del digital sequence information nel DSI pezzi di DNA RNA e proteine cioè dati di sequenza genetica un termine non definito chiaramente e interpretato differentemente dai vari attori usato per riferirsi a dati derivati da risorse genetiche dematerializzate le negoziazioni in seno alla CBD furono molto tese da una parte i paesi del nord che puntavano alla conservazione della biodiversità attraverso i centri CJR nonché a preservare i diritti di proprietà intellettuale nel loro settore biotecnologico che era in rapida evoluzione dall'altra i paesi del sud che esprimevano preoccupazioni crescenti sui diritti di proprietà intellettuali sulle risorse genetiche tutto questo si cominciava a comprendere la necessità di creare un meccanismo di condivisione dei benefici dello sviluppo ottenuto attraverso l'uso delle risorse genetiche un'altra questione scottante era apparsa sulla spinta dei paesi del nord gli americani in particolare relativa all'attribuzione di un valore economico alle risorse biologiche ricordate quanto dicemmo nel webinar precedente relativamente a quel periodo in particolare il rapporto brutland le questioni del valore monetario da dare o no alla natura e del consenso previo uno studio specifico viene richiesto a un gruppo di lavoro per guidare le negoziazioni secondo loro i prezzi di mercato delle risorse genetiche delle loro funzioni non riflettono il loro reale valore di scarsità o i costi ecologici sostenuti per il loro utilizzo ma i rapporti di forza erano a favore dei neoliberali del nord per cui alla fine venne introdotto la condivisione dei benefici monetari derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche per la prima volta nonostante le precedenti raccomandazioni che le sconsigliavano gruppo di lavoro ha anche discusso la possibilità di introdurre un meccanismo di consenso informato previo per garantire che l'accesso alla diversità biologica non metta a repentaglio le popolazioni locali nonché per riflettere la sovranità degli stati sulle loro risorse genetiche alla fine però il gruppo di lavoro ha aggiunto che non dovrebbe essere regolamentato in modo tale che impedisca in modo generalizzato l'accesso Rio 92 visto dagli occhi delle donne nasce il Women's Major Group importante il gruppo da quel momento in poi facilita gli input della società civile femminile nello spazio politico fornito dalle Nazioni Unite partecipazione interventi presentazione di proposte accesso ai documenti il Women's Major Group è auto-organizzato e aperto a tutte le organizzazioni interessate che lavorano per promuovere uno sviluppo sostenibile basato sui diritti umani con particolare attenzione ai diritti umani delle donne all'emancipazione delle donne e all'uguaglianza di genere anni dopo Anna Luisa nel libro Spicolatrici d'ambiente che voi ben conoscete scrisse poco però è stato fatto se a vent'anni di distanza l'urgenza di un concreto avanzamento delle politiche multilaterali sullo sviluppo sostenibile che abbiano caratteri realmente trasformativi viene ribadita ancora una volta nel 2015 l'agenda 2030 continua a sottolineare la necessità di considerare le questioni relative alle condizioni delle donne soprattutto in termini di diseguaglianze ma l'agenda 2030 non riafferma esplicitamente la profonda interconnessione tra il ruolo e la posizione delle donne e le questioni ambientali le critiche al summit di Rio primo si promuove un rapporto bilaterale non multilaterale tra paesi firmatari così che i rapporti di forza esistenti favoriranno sempre i contraenti più forti secondo nessuna definizione di accesso e o condivisione dei benefici sono state inserite nel testo finale della CBD la Caritas ha fatto un commento di cui abbiamo già parlato nell'altro webinar dove dice che la dichiarazione è forte sul contributo positivo che il settore privato può dare allo sviluppo sostenibile attraverso soluzioni basate sul mercato e nuove tecnologie i suoi promotori saranno ansiosi di capitalizzare sulle nuove opportunità commerciali che queste misure di economia fra virgolette verde offriranno il testo invece piuttosto silenzioso sugli impatti negativi sociali ambientali e sui diritti umani delle imprese principalmente multinazionali che devono essere affrontati per rendere lo sviluppo più sostenibile e giusto l'ideatore del primo vertice della terra realizzato a Stoccolma nel 72 Sverser Astrum ha dichiarato il principale fallimento del vertice di Rio del 92 è che la maggior parte dei documenti che ne sono scaturiti non sono vincolanti cioè non sono obbligatori e quindi non hanno raggiunto i loro obiettivi il primo ministro della Nuova Zelanda Palmer nel 92 scrisse il summit non ha soddisfatto le aspettative stabilite nelle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che l'hanno istituito né l'incontro ha cambiato la qualità essenziale del diritto ambientale internazionale che manca di un'autorità centralizzata per la creazione e l'applicazione della legge né l'incontro di Rio ha creato istituzioni in grado di produrre un nuovo approccio ai problemi ambientali tre anni dopo nel 95 viene istituita l'Organizzazione Mondiale del Commercio che prende con sé la discussione sui diritti di proprietà intellettuali da lì in poi è diventato uno dei core business dell'ONSE ricordiamo che l'industrializzazione dell'agricoltura ha portato alla privatizzazione del settore ricerca e sviluppo da lì l'importanza crescente dei diritti di proprietà intellettuali nel settore agricolo che andranno a finire sotto il controllo dell'OMSE e chi comanda lì dentro il processo decisionale è stato dominato finora da tre grandi membri Stati Uniti Unione Europea e Giappone ma adesso c'è il peso crescente della Cina e questo scombussola gli equilibri precedenti il peso del voto è assegnato in base al peso del mercato del singolo paese avvantaggiando ovviamente chi ha già un mercato consistente in positivo alla CBD nascerà comunque una spinta importante a un processo che nato internamente la FAO nel 2001 dimetterà il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura tutto quanto non si voleva includere nella CBD alla fine è entrato dalla porta della FAO il trattato è stato poi ratificato dai paesi per cui è in funzione da parecchi anni l'obiettivo conservazione e uso sostenibile di tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dal loro utilizzo in armonia con la CBD per un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare alcuni principi innovativi fecero il loro ingresso dalla porta principale in particolare il contributo passato presente e futuro degli agricoltori di tutte le regioni del mondo in particolare di quelle dei centri di origine e di diversità alla conservazione miglioramento e messa a disposizione di queste risorse tutto ciò è alla base dei diritti degli agricoltori ed è un po' sulla scia di questi diritti che nel 2004 dopo lunghe e faticose negoziazioni vennero approvate le linee guida per il diritto all'alimentazione due anni dopo grazie alla spinta di due soli paesi Filippini e Brasile e con il pieno appoggio del direttore generale della FAO venne approvata e poi realizzata la conferenza internazionale sulla riforma agraria a Porto Alegre continuava così questo periodo positivo quando sembrava fosse possibile incidere realmente nelle agende internazionali legate alle risorse naturali ultimo ma non meno importante fu il protocollo di Nagoya del 2010 che doveva specificare meglio il meccanismo della giusta ed equa divisione dei benefici dell'utilizzo di queste risorse genetiche meccanismo access and benefit sharing l'ABS di cui parleremo dopo l'età della disillusione tutto sembrava andare in una direzione più democratica eppure ho deciso di chiamare il decennio iniziato nel 2010 come l'era delle disillusioni e non solo per la crisi finanziaria iniziata nel 2007 negli Stati Uniti il segnale più evidente fu la conferenza di Rio più 20 per celebrare i 20 anni del summit sulla terra se il primo era stato essenzialmente un summit di capi di stato e di governo con alcune rappresentazioni della società civile e del settore privato quello del 2012 fu esattamente il contrario più di 2700 rappresentanti del settore privato invasero Rio per guidare da dentro e da fuori il summit che mostrò in tutta la sua evidenza the corporate capture of the UN by the private sector la cattura corporativa delle Nazioni Unite da parte del settore privato nelle dichiarazioni conclusive banche politici multinazionali si esprimevano con lo stesso linguaggio riguardo l'ambiente ricorderete e dall'altro webinar come fin dal 2005 era stata lanciata la nuova religione dei servizi ecosistemici cioè la messa sul mercato dell'ambiente il passo successivo era stato quello di certificarlo ai più alti livelli a questo servì la Rio Juventi il meccanismo fu quello del World Business Council for Sustainable Development le cui basi furono poste al summit sulla terra che ormai raggruppa 200 fra le principali multinazionali mondiali considerato come uno dei forum più influenti a livello mondiale è uno dei principali responsabili della resistenza del settore privato a qualsiasi politica diretta ad occuparsi del cambio climatico il Rio Plus 20 è diventato il vertice della futilità permettetemi di essere franco i nostri sforzi non sono stati all'altezza della sfida questo è il verdetto emesso dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon durante la sua dichiarazione di apertura del Rio Plus 20 la natura non aspetta la natura non negozia con gli esseri umani la dichiarazione finale di Rio Plus 20 rafforza il ruolo delle imprese come promotrice della cosiddetta economia verde ma evita completamente di affrontare il ruolo delle imprese nella creazione delle crisi finanziaria climatica alimentare e di altro tipo una parentesi sulla digital sequence information come ricordato prima il terzo obiettivo della CBD riguardava la giusta ed equa divisione dei benefici dell'utilizzo di queste risorse genetiche in termini tecnici si trattava del meccanismo ABS ricordiamo che il 90% della diversità biologica si trova nei paesi in via di sviluppo mentre il 97% dei brevetti sono già in possesso di aziende del mondo industrializzato il sud globale quindi si dispone di una biodiversità enorme poco protetta che serve agli interessi del nord globale per molti usi commerciali e non essenzialmente privati quindi il principio di fondo era il sud mette a disposizione le risorse genetiche che vengono poi rielaborate trasformate e impacchettate dall'industria essenzialmente del nord che in cambio dovrebbero restituire una parte dei benefici per essere inclusivi c'era anche previsto che si dovesse ottenere un consenso informato previo da parte delle popolazioni comunità che detenevano quelle risorse specifiche così doveva succedere nel mondo ideale il meccanismo dell'ABS fissa regole chiare da far applicare a livello mondiale in pratica il consenso previo viene richiesto e se ottenuto un permesso è rilasciato e immediatamente dopo viene pubblicato nella ABS Clearing House la Clearing House genera quindi un certificato internazionale di conformità riconosciuta con un numero unico per il tracking da questo momento le risorse genetiche possono essere usate infine il checkpoint comunica le informazioni all'autorità nazionale e parte dei benefici sono restituiti il diavolo però si è messo in mezzo la messa a disposizione di materiale genetico era pensata essenzialmente nella sua forma macro cioè di pianta intera da lì sarebbero stati recuperati i principi attivi le sequenze genetiche con un lavoro di laboratorio che solo nel nord si poteva fare pianta della stevia si estraggono le sequenze genetiche del dolcificante e poi si vende un prodotto patentato ricordiamo che il sequenziamento del primo genoma umano ha richiesto circa 4 anni con un costo stimato di circa 450 milioni di dollari per il lavoro di sequenziamento in quanto tale la tecnologia ha fatto però progressi da gigante alla fine del 2015 un genoma umano poteva essere sequenziato per meno di 1500 dollari oggi per estrarre la sequenza digitale necessaria nel DSI ci sono aziende che lavorano per ridurre questo costo a meno di 100 dollari i piccoli sequenziatori a nanopori portatili che possono essere utilizzati sul campo costano circa 1000 dollari per una confezione iniziale compresa l'assistenza tecnica con una tecnologia a così basso prezzo diventa più facile e redditizio servirsi da soli ed ecco il boom della bioperateria per le imprese che non vogliono sporcarsi le mani la strada è diversa tutti riconoscono che l'uso della DSI contribuisce in modo significativo al raggiungimento dei primi due obiettivi della CBD ovvero il sostegno alla conservazione della biodiversità e all'uso sottenibile dei suoi componenti e che la DSI è importante per la ricerca e lo sviluppo soprattutto in settori come la sicurezza alimentare e la salute la battaglia riguardava in particolare l'implicazione dell'uso della DSI per il terzo obiettivo della CBD e per l'obiettivo del protocollo di NACOIA ovvero la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche fin dall'inizio c'è stato un disaccordo sul fatto che la definizione di risorse genetiche nella CBD includa o meno le DSI e se queste debbano rientrare nel regime di accesso e condivisione dei benefici ecco quindi dove si sta concentrando la lobby del settore privato considerare la DSI come una cosa diversa dal materiale genetico che ricade sotto la CBD secondo loro la CBD si riferisce chiaramente e solamente al materiale genetico e non alle informazioni astratte gli effetti pratici diventano quindi evidenti se io prendo la sequenza di informazione DNA RNA di un certo materiale la riutilizzo per ricombinarla e farne altri prodotti derivati non ricado sotto la CBD e quindi non devo applicare l'ABS cioè non devo condividere i profitti con le molecole e o parti del DNA RNA che vengono trovate nei paesi del sud si possono fare nuove varietà da coltivare OGM prodotti farmaceutici per combattere molte malattie giusto per farci un'idea del peso del settore farmaceutico per il 2022 come vedete qui a destra il mercato globale è stato stimato a 1.4% a 1.48 trilioni di dollari e vedete il trend crescente per gli anni a venire oppure per una serie di cosmetici il cui mercato globale vedete qui a destra viaggia verso i 600 miliardi di dollari altre forme per accedere alle sequenze genetiche sono le banche del gene circa il 94% del germoplasma distribuito nel quadro del trattato internazionale della FAO sono conservate dai centri CJR la posizione ufficiale dei dirigenti è che non possiamo trasformare il food system senza il settore privato chi ci sta dietro a CJR con i soldi? eccoli qua gli americani con l'agenzia di cooperazione USAID Bill e Melinda Gates con la loro fondazione la banca mondiale e tanti altri più piccoli non ho trovato dati sul peso della fornazione singenta cinese il sequenziamento costa poco ma genera un'enorme quantità di dati biologici da qui la necessità dei data center e il potere che hanno chi li controlla ricordiamo che il mondo dei big data è in gran parte non regolamentato i data center consumano già oggi circa l'1% della domanda globale di elettricità pare lo 0,3% delle emissioni globali di CO2 percentuale che potrebbe crescere a causa della crescente domanda negli Stati Uniti si stima poi che il consumo idrico dei data center sia di 1,7 miliardi di litri al giorno queste stime sono comunque incerte infatti le aziende sono riluttanti a fornire le cifre esatte anche perché secondo la legge degli stessi Stati Uniti non sono tenute a farlo quindi la strategia globale delle grandi corporation nel ruolo di guida troviamo la Food Action Alliance ospitata dal forum di Davos con partner principali il World Business Council come abbiamo parlato prima Syngenta cinese Cargill Nestlé la Pepsi Unilever Bayer e poi troviamo anche WWF e troviamo alcune agenzie tipo la FAO l'IFAD l'ICA la nuova narrativa dopo averci convinti che la gestione delle risorse naturali andava fatta attraverso il mercato ricordato il webinar precedente ha fatto un secondo passo per chiarire quanto sia fondamentale il ruolo del settore privato non le piccole aziende ma le grandi corporations a questo è servito Rio Plus 20 il terzo era di promuovere l'alleanza mondiale fra questo settore privato e le Nazioni Unite le cui agende politiche erano già state largamente influenzate da parecchi anni in favore di queste corporation ultima ma non meno importante le conosciute direttive volontarie per la buona governance della terra del 2012 questo nuovo passo avanti è stato promosso dal forum di Davos che si è assunto l'onere e l'onore di promuovere questa food action alliance a cui sono state associate anche alcune big NGOs come Nature Conservancy il tutto con un'agenda di lobbying in tre punti primo promuovere un summit mondiale sui sistemi alimentari e per farlo hanno atteso il momento del passaggio tra l'ex direttore generale della FAO il nuovo cinese in questo interregno hanno potuto manovrare perché il summit fosse realizzato a New York e non a Roma presso la FAO come sarebbe stato logico in questo modo riducendo anche la possibile influenza cinese lo scopo di questo summit è di promuovere un cambio maggiore nel sistema multilaterale delle Nazioni Unite privilegiando il rapporto con il settore privato quello del World Business Council di fatto a scapito dei governi legittimi secondo assi di lavoro riguarda la riforma dei sistemi CJR in modo da prenderne il controllo attraverso sovvenzioni ingenti e mirate e abbiamo già visto chi siano quelli che mettono i soldi americani gates ed altri ultimo ma già in atto da tempo prendere il controllo dei big data attraverso la creazione di un International Digit Council for Food and Agriculture per gestire l'enorme massa di dati relativi al DNA digitale e al DSI in sintesi il summit prepara il quadro di riferimento i centri CJR il sistema di delivery e nei big data diventano il prodotto finale in tutto questo nel 2015 Papa Francesco pubblica l'enciclica Laudato Si cito data l'ampiezza dei cambiamenti non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema è fondamentale cercare soluzioni integrali che considerano l'interazione di sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali non ci sono due crisi separate una ambientale e un'altra sociale bensì una sola e complessa crisi socioambientale l'enciclica ha fatto parlare molto sono sorti movimenti e associazioni che si ispirano all'enciclica ma nel concreto malgrado il peso del Vaticano l'impatto reale sulle dinamiche in corso è stato risibile prima di chiudere due parole su due altri aspetti del problema ambientale di cui si parla meno cominciamo con la digital agriculture il braccio armato del digital council che si sta costruendo le grandi aziende tecnologiche le GAFAM nuove in agricoltura stanno già investendo pesantemente soprattutto nelle piattaforme informative digitali collegate ai loro servizi cloud nel 2020 gli investimenti sono più che triplicati passando da 9 miliardi di dollari nel 2016 a 31 miliardi di dollari le aziende agroalimentari in particolare a quelle che vendono sementi pesticidi fertilizzanti hanno Bayer Monsanto e compagnia hanno adottato le tecnologie digitali a un ritmo sostenuto negli ultimi anni si è assistito un'esplosione di applicazioni mobili offerte agli agricoltori dalle aziende produttrice di pesticidi e fertilizzanti apparentemente per aiutarli a decidere quali colture piantare quanti pesticidi spruzzare quanto fertilizzanti usare e quando raccogliere fra le altre cose quasi tutti i principali operatori del settore agroalimentare hanno collaborato con aziende tecnologiche globali per creare applicazioni che ora coprano milioni di ettari di aziende agricole Bayer la più grande azienda di pesticidi e sementi del mondo afferma che la sua app è già utilizzata in aziende agricole che coprono oltre 24 milioni di ettari in cambio dei consigli dispensati da queste app gli agricoltori forniscono alle aziende agricole un flusso costante di dati sulle condizioni del suolo e del clima sulla prevalenza di parassiti sulla resa delle colture eccetera la strategia di far sì che gli agricoltori presentino dati in cambio di consigli è fin troppo conveniente per qualsiasi azienda che intenda vendere input chimici negli stessi agricoltori l'ambito di questa strategia gli esploratori dell'azienda aiutano gli agricoltori a identificare le erbacce le malattie gli insetti eccetera nei loro campi e a prevedere quando questi potrebbero diventare un problema i responsabili di campo indicano agli agricoltori quando e quanti pesticidi e fertilizzanti usare e dietro pagamento di un extra lasciano che gli agricoltori si occupino della pianificazione dell'attuazione della documentazione delle attività di protezione delle culture risultato che senza un'adeguata regolamentazione ciò potrebbe portare a una situazione in cui poche aziende acquisiscono un potere sufficiente a influenzare il processo decisionale sull'agricoltura globale a scapito dei piccoli produttori finora le politiche dei governi delle istituzioni pubbliche come la FAO non hanno riconosciuto e affrontato questo problema anzi che potrebbe intensificare il controllo delle imprese sul sistema alimentare e per finire due parole sull'ingegneria climatica geoengineering con questo termine intendiamo delle manipolazioni di grande scala del sistema climatico per contrarrestare il riscaldamento globale da molti viene considerato come uno schema di greenwashing una tattica di diversione politica volta a distogliere risorse e attenzione dalle politiche di riduzione dell'emissione e degli sforzi di mitigazione però vedete che ci sono già dei grossi pescecani con delle ambizioni incredibili in teoria esiste una moratoria sulla maggior parte degli esperimenti di geoingegneria come previsto dalla COP22 qualsiasi paese che impieghi unilateralmente la tecnologia della geoingegneria rischia di provocare eventi meteorologici imprevedibili in altra parte del mondo in pratica però ci stanno già provando la controversa start up di geoingegneria solare make sunsets dopo aver provato di essere bloccata in messico ha dichiarato di aver rilasciato a marzo di quest'anno a rino nel nevada tre palloni che trasportavano particelle che alteravano l'atmosfera sebbene l'azienda affermi di aver ricevuto il via libera dalla Federal Aviation Administration e dalle autorità locali i funzionari affermano che non è stata concessa alcuna autorizzazione siamo in pieno far west pochi mesi fa dicembre dell'anno scorso si è concluso l'altro round della Convention of the Parties la CBD nella COP e lì è stato adottato il nuovo Global Biodiversity Framework GBF anni di discussioni e negoziazioni serrate questa riunione del COP era cominciata poco prima del Covid in Cina con Ming ed è terminata solo a dicembre dell'anno scorso a Montreal perché si è dovuto aspettare la fine dell'epidemia molte speranze c'erano che il nuovo GBF segnasse un vero passo avanti e non fosse solo l'ultimo giro di Walzer in realtà il pacchetto finale di decisione è stato deludente per gli attivisti che speravano in testi forti su ad esempio privatizzazione e commercializzazione dell'informazione genetica attraverso la DSI delle importanti proposte che riterebbero le aziende legalmente responsabili per i danni causati alla biodiversità sono state totalmente rimosse dal testo finale sono state eliminate dal testo e riferimenti alle necessità di modificare le diete e o i sistemi alimentari in generale per ridurre l'impatto in particolare dell'allevamento non sostenibile che è una delle principali cause della perdita di biodiversità e del cambiamento climato con memoria al visto dalle donne il caucus femminile è riuscito a includere un obiettivo indipendente sul genere l'obiettivo 23 che non solo sollecita i governi ad adottare un approccio attento al genere nel GBF e a garantire alle donne partecipazione ma riconosce anche esplicitamente la parità di diritti delle donne alla terra e alle risorse naturali il caucus però non è riuscito a garantire indicatori differenziati per genere nel quadro di monotioraggio ad eccezione degli indicatori relativi all'obiettivo di genere stesso né a integrare riferimenti e le dimensioni di genere nella maggior parte degli altri obiettivi del GBF ciò significa che esiste il serio rischio che il genere diventi ancora una volta un pilastro separato del GBF e dei suoi meccanismi di attuazione piuttosto che qualcosa di realmente integrato visto dal punto di vista della finanza il GBF ha aperto le porte a tutte le fonti di finanziamento per sostenerne l'attuazione compreso in particolare il sostegno finanziario del settore privato mentre nel GBF è stata inserita l'ambiziosa cifra di 200 miliardi di dollari all'anno destinati al finanziamento della biodiversità il testo specifica anche che solo tra i 20 e i 30 miliardi saranno effettivamente costituiti da aiuti ufficiali allo sviluppo ciò significa che la politica pubblica sulla biodiversità diventerà ancora più dipendente dal sottenio finanziario e quindi dai capricci e dai desideri delle imprese e dell'industria ancora peggiore è stata l'inclusione notturna di compensazioni e crediti per la biodiversità quello che si chiama in termini tecnici il biodiversity offsetting come schema innovativo di finanziamento nel GBF le compensazioni della biodiversità non funzionano nella pratica perché non è possibile sostituire semplicemente un ecosistema distrutto con un altro ecosistema in altre parole cos'è questo biodiversity offsetting un meccanismo attraverso il quale la distruzione della biodiversità su una porzione di territorio può essere tollerata se viene ricreato altrove un ecosistema con analoghe caratteristiche in pratica una multinazionale può saccheggiare e devastare un determinato territorio purché riesca a ricreare un habitat analogo dal punto di vista della biodiversità ogni ettaro di foresta disboscato sarà compensato da un altro ettaro di foresta che verrà ricreato o tutelato altrove oppure con una forzatura ancora più evidente la distruzione dell'ecosistema può essere consentita purché il soggetto in questione riesca a sostenere concretamente la tutela ambientale finanziando azioni per la salvaguardia della biodiversità in un'altra zona dello stesso paese danneggiato ricordate quanto abbiamo detto nel primo webinar le conseguenze dell'accordo di Kyoto e di quelli che ho chiamato di Indio Bond concludendo voluto ricordare questa frase di François Dobon le assimetrie di potere nel mondo ambientale e agrario sono cresciute in modo esponenziale dal dopoguerra ad oggi figli di una visione dove domina l'economia e il profitto a tutti i costi i grandi attori di questo mercato sempre più interconnesso con altri mercati tecnologico industriale chimico continuano sempre di più a privatizzare i benefici e socializzare le perdite possiamo dire senza paura di smentite che stanno uno o più passi avanti rispetto alle forze democratiche che cercano di controllarle attraverso la creazione di normative adeguate la visione antropocentrica che si portano dietro difficilmente potrà essere cambiata andando a giocare sul loro stesso terreno dato che sono troppo forti e potenti la mia conclusione è che bisogna partire dalla vera base di questo potere si trova nella sfera familiare laddove non solo si riproduce a costo zero la manodopera del sistema capitalista ma dove si riproducono le logiche patriarcali violente e dominanti che sono la base della filosofia di questi attori e su questo stiamo già lavorando per chi volesse approfondire grazie a tutte e a tutti bene grazie io direi a questo punto di dare la parola eventualmente per domande riflessioni ecco le sollecitazioni sono state tantissime quindi io darei proprio la parola a chi ci sta ascoltando tenendo conto poi che le nostre sono registrazioni e che quindi questo materiale è messo a disposizione di chiunque vorrà poi risentirlo a partire dal nostro sito io posso partire con due riflessioni poi magari giusto perché è così allora la prima riflessione è riguarda il la questione del diritto ambientale io ero sono stata alla conferenza di Rio nel 1992 dove tra l'altro ho conosciuto Vandana Shiva ho conosciuto insomma veramente tante donne nell'ambito di questa di questo spazio che si chiamava Planeta Femmea e con Jutta Steyerwald eccetera e interessante diciamo che noi li portiamo il progetto per questo volevo fare questa domanda il progetto coordinato da Medeo Postiglione che Laura Cima conosce molto bene che è il progetto di creare un tribunale internazionale dell'ambiente che giudichi i crimini ambientali come crimini contro l'umanità questo progetto ha fatto tanti passi in avanti uno di questi glielo fece fare Alex Langer con una lunga analisi fatta dal Parlamento europeo su come doveva funzionare come doveva diciamo svilupparsi il tribunale internazionale dell'ambiente e a tutt'oggi diciamo Medeo Postiglione l'ha portato credo in tutto il mondo però ovviamente fatica a decollare quindi volevo chiedere la vostra opinione su questo aspetto l'altro aspetto riguarda invece un volumetto che avevamo realizzato come questi tutt'anni tantissimi anni fa con Giorgio Celli sulle manipolazioni genetiche e gli OGM ecco perché un altro cioè le tue riflessioni mi riportavano un po' le riflessioni che faceva Giorgio Celli proprio sulle manipolazioni genetiche tanto che noi realizzammo una simulazione del Tribunale Internazionale dell'Ambiente a Faenza con diciamo i contadini gli agricoltori insomma di quell'area che avevano iniziato a denunciare moltissimi tumori soprattutto alle donne dovuto appunto a questo utilizzo veramente sconsiderato appunto di pesticidi in agricoltura fu una simulazione che vide proprio condannare le grosse aziende che tu hai citato ovviamente in forma simulata che però dimostrava come questo strumento potesse essere importante per diciamo far emergere degli aspetti molto nascosti ma non poi tanto perché poi quando le persone si ammalano i problemi emergono e quindi anche questo è un aspetto secondo me molto interessante noi curammo un volumetto appunto proprio sugli OGM con Giorgio Celli che partecipò appunto a questa simulazione a Faenza con la Gigliola Cordiviola che ti ricordi Laura e fu insomma un'esperienza molto importante proprio per il punto di vista della società civile e mi fermo qua se ci sono altre domande io direi di metterle insieme così più che una domanda una considerazione su questo metodo chiamiamolo metodo metodologia fregatura la chiamerei io delle compensazioni no che viene che viene portata avanti perché diciamo che dal livello macroscopico che ci ha raccontato Paolo che addirittura intere migliaia di ettari eccetera vengono in maniera come dire furbesca non so come dire infatti oggetto di distruzione eccetera e dopo si garantisce la compensazione se scendiamo anche se guardiamo quelli che sono anche i progetti che vengono fatti adesso in Italia avevamo già fatto un altro webinar su questo i progetti PNRR dove si aggirano tutta una serie di vincoli e di normative che ancora resistono perché pian piano vengono smantellate questo io credo appunto lo hanno già fatto a livello macro ma mi pare che lo stanno facendo anche a livello micro sul territorio per territorio questo discorso come se spostare un bosco fosse la stessa cosa che è spostare un mobile della cucina insomma ecco e questo francamente mi atterrisce perché invece di andare a cercare perché appunto lo squilibrio di potere è talmente grande che veramente è difficile essere ottimisti a meno che queste persone che comandano non vengano colpite direttamente ma forse anche questo non basterebbe a migliorare la normativa a produrre delle normative corrette in realtà si sta in qualche modo degenerando anche quelli che sono i vincoli e le normative a livello proprio nazionale territoriale regionale e così via e questo e la logica è sempre quella e la logica è sempre quella per cui se nell'ultima sollecitazione si parte dalla base si parte dalla famiglia io dico si parte dalla piccola comunità e così via e veramente io mi dico cioè questa sarebbe una cultura da diffondere è l'unica arma che forse noi abbiamo soprattutto verso i giovani cioè partire proprio dalla piccola comunità della zona e cercare lì come formichine di attuare un cambiamento che però insomma ecco dove appunto tra i giovani c'è meno anche forse segregazione di genere e così via insomma ecco però appunto lì lo sforzo deve essere soprattutto culturale cosa che è tutto da iniziare secondo me direi di iniziare a dare risposte a questo punto e poi andiamo avanti allora per farla un po' breve lì cioè i due webinar fanno parte cioè descrivono il secondo e il terzo stadio dell'attacco alla natura nel libro quello sulla crisi agraria ed ecogenetica in realtà ci sono tutti e tre il primo non c'era tempo in questi in questi webinar per raccontarlo il primo è quello che ha riguardato la trasformazione del sistema agrario sempre partendo tutto dal dopoguerra e che ha portato alla scomparsa di fatto dei contadini alla loro trasformazione in opera in massa come teorizzavano tronti e negri e al dominio attuale di un agribusiness basato su quanto raccontavo su poche varietà concentrandosi su un alto uso di tecnologia di prodotti chimici e compagnie ma di fondo diciamo i miei 30 anni di osservazione e di azione sul terreno mi hanno portato a rendermi conto del potere immenso che questi grandi attori avevano e che continuavano ad accumulare anno dopo anno intessendo sempre di più la loro rete di interessi per cui diciamo la logica dei piccoli distretti industriali che abbiamo trovato negli anni 60 fino adesso nel Veneto in cui ogni piccolo imprenditore è in competizione col suo vicino pensi al caso degli occhiali o al distretto delle sedie dopo però si uniscono tutti per avere la forza sufficiente per guadagnare il mercato internazionale bene questo l'hanno fatto a livello mondiale sono in competizione fra loro con i vari diversi prodotti che offrono ma di fatto c'è una strategia di fondo comune che è quella che in tutti questi anni ho cercato di capire meglio da dove venisse come è stata strutturata e come si sta esprimendo attualmente che è andata come avete sentito al di là dei loro interessi stretti ma una presa di controllo degli organi decisionali a livello internazionale prima sostituendo di fatto lo Stato con nuove diciamo con delle nuove elite dipendenti dai loro finanziamenti oppure nel sud del mondo mettendo attraverso quello che è stato tutto il decennio dei programmi di aggiustamento strutturale segando tutti i servizi di base educazione salute e compagnia e mettendo al potere una nuova generazione di politici ignoranti incompetenti corruttibili per cui il passaggio successivo andare a prendere il controllo dei centri CJIARO o delle agenzie delle Nazioni Unite diventa diciamo l'espressione evidente pubblica di un potere che è realmente stratosferico io arrivo alla fine di questi anni di azione di riflessione a dirmi se noi pensiamo di poter attaccare a questi livelli qua abbiamo abbiamo perso in partenza per cui diciamo da un paio d'anni a questa parte ed erano un po' le discussioni che avevamo nei mesi scorsi nei previ alla preparazione di questo corso cioè l'idea effettivamente come diceva adesso Gabriele di pensare alle generazioni future voi più di me avete un capitale di storia di cose fatte e di tanti anche diciamo successi ma anche tanti fallimenti le difficoltà nell'articolarsi con diciamo con un mondo politico che diciamo per essere così benevolenti non ha voluto o non ha saputo capire le importanze delle tematiche che voi avete provato a mettere sul tappeto io credo che il mondo politico italiano e non solo attuale non abbia ancora capito nemmeno la prima trasformazione del mondo agrario la seconda dell'attacco di dare un prezzo alla natura credo che gli passi completamente sopra la testa e quest'ultimo di cui abbiamo parlato oggi proprio non ci arrivino e quindi una possibilità è quella di dire cerchiamo di influenzare i partiti perché capiscono cosa sta succedendo io sono arrivato alla conclusione che in realtà è tempo perso è molto meglio cercare di concentrarci dove abbiamo le capacità di agire che quindi le nuove generazioni ma a differenza di quanto diceva Gabriella non credo tanto diciamo nell'azione a livello della piccola comunità la questione centrale per me è cosa tiene in piedi questo sistema il modello capitalista è arrivato come un acceleratore rispetto a un potere patriarcale che è molto più antico e che è la fondamenta di tutta questa società che abbiamo davanti il patriarcato l'acceleratore del modello del sistema capitalista dopodiché la sovrastruttura intellettuale che ci è arrivata 40 anni fa con tutto l'ambaradam neoliberale se noi vogliamo attaccare qualcosa là dentro dobbiamo andare alla base cioè alla base del patriarcato e che questo lo troviamo dentro casa nostra io l'ho visto su di me come nato geometra figlio di un muratore con gli anni sono riuscito non grazie alla scuola a capire queste tematiche legate a uomo donna prima e poi pian piano di genere e nel femminismo fino all'ecofeminismo che mi hanno confermato che anche noi maschi possiamo cambiare di conseguenza se noi pensiamo alle nuove generazioni dove le assimetrie di potere all'interno della coppia sono probabilmente almeno è un'ipotesi di lavoro meno forti di quello che erano all'epoca delle nostre nonne e nonni lì dentro se noi riusciamo ad operare attraverso la scuola il mondo delle associazioni quelle poche che capiscono queste tematiche a riuscire a creare degli stimoli delle proposte per ridurre la simetria di potere all'interno della sfera domestica non riconducendola più una questione di salario per il lavoro domestico perché è una discussione del passato che non ha molto interesse il giorno d'oggi ma legata alla questione del tempo di liberare far sì che i maschi capiscano che debbano mettere del loro tempo dentro casa per liberare tempo femminile il momento in cui come sta succedendo a noi in questo periodo cioè la nostra domestica è in ferie e quindi lei giustamente si gode le sue ferie e quindi dobbiamo fare tutto noi due io e mia moglie quindi io devo fare cioè faccio io i piatti lavo io i bagni mia moglie fa altre cose detto così fra di noi anche se è registrato un po' una rottura di balle però ti permette di capire delle cose importanti dell'altro capire di entrare diciamo di mettere un livello paritario condividere cose e rifare cose assieme la persona che esce fuori da queste esperienze qua non è più la stessa che vuole sentirsi diciamo come il dominus dell'altro donna dell'altra natura di conseguenza agire locale in questo caso non è agire a livello della comunità ma è partire proprio dall'interno della coppia si può fare noi ci stiamo lavorando da 6-7 mesi e penso che in primavera faremo una presentazione anche pubblica diciamo dell'indicatore con cui stiamo lavorando proprio perché diciamo pensando ai giovani d'oggi se noi riusciamo a cominciare non solo in Italia ma facendo rete evidentemente anche fuori dall'Italia con chi si interessa a questa questione delle parità reali dell'educazione civica sto anche lavorando su un altro indicatore di cui mia figlia mi ha parlato quando era al governo tre anni fa in Francia una specie di patente civica loro l'hanno chiamato un brevetto da dare agli studenti delle scuole superiori su una serie su un questionario su una serie di questioni legate alla parità di genere in modo che per arrivare all'esame di maturità finale bisogna anche essere passati attraverso questi corsi di formazione e aver passato l'esame cioè avere un minimo di punteggio ed è questa generazione che dovremmo da un lato fargli capire l'immensità dei problemi attuali come ho cercato di fare con questi webinar fargli paura di quanto complesso articolato e potenti sono questi attori dall'altro dire si può fare e quello che possiamo fare non c'è bisogno di andarsi iscrivere a un partito ma lo puoi cominciare a fare a casa tua nei tuoi rapporti con la tua compagna con il tuo compagno e a partire da lì cominciare a costruire qualcosa di diverso in questa è la direzione dove credo che noi potremmo come Ecofem cominciare a diciamo parlandone di più mettendoci d'accordo su una strategia d'azione over Enzo Tortello ha alzato la mano io volevo fare prima di tutto una domanda preonastica a Paolo perché volevo sentire cosa ne pensa dell'opposizione che gli armatori stanno facendo all'introduzione del sistema ETS nel diciamo relativamente all'inquinamento marittimo e poi invece volevo fare una domanda diversa a Gabriella che ha notato cioè ci ha fatto notare che l'informatizzazione degli italiani è piuttosto scarsa io vorrei chiedere invece se non viene considerato una sorta di discriminazione la tecnologia digitale nei riguardi delle persone anziane e se non si possono in qualche modo definire delle regole perché la velocità sia un po' ridotta perché attualmente direi che è una sorte che capiterà a tutti quanti quella di essere diciamo tagliati fuori grazie Gabriella vuoi dire qualcosa tu? vai tranquillo allora io non conosco in particolare il problema di cui stava parlando Enzo però di fatto quello che vediamo in tutti i settori è qualcosa che intacchi il livello di profitto di una compagnia piccola media o grande che sia non c'è verso di un'isera ad opporsi perché ormai sono talmente entrati dentro anche nel mondo della governance a livello dei comuni regioni nazionali e internazionali per cui la domanda diventa sempre con chi facciamo resistenza rispetto a questi movimenti io ricordavo avevo poi commentato un articolo che mi aveva inviato che Laura aveva condiviso sul gruppo del corso una nota del gruppo Verdi Sinistra Italiana rispetto a un caso di un'impresa dove non so se fosse fra l'altro a Trieste dove gli veniva chiesto di pubblicizzare la quantità di milioni che avevano condiviso non con i propri operai ma in termini di benefit per i vari soci e vi ricordavo per chi c'era nel primo webinar una cosa di cui io mi sono trovato in mezzo per puro caso perché non ne ho mai sentito parlare il codice di Cadbury del 92 che sono diventati di fatto la pietra miliare per qualsiasi società che voglia presentarsi in borsa cioè il principio che chi comanda lì dentro non risponde più agli operai o al tipo di lavoro o prodotto che stanno facendo ma risponde solo agli associati quindi se noi guardiamo la fabbrica come un luogo dove una volta si faceva un prodotto quindi gli operai fieri di aver fatto un buon prodotto quindi desiderosi di condividere i benefici a giorno oggi questo non gli interessa più niente perché chi comanda lì dentro sono i portatori dei capitali i quali vogliono benefici e quando il tasso di profitto scende troppo si cambia subito il manager e se ne mette un altro se c'è bisogno di corrompere di inquinare vivono con un'ottica di cortissimo periodo per cui non gliene può infregare nulla di quello che fanno in termini di danni all'ambiente non c'è una legislazione internazionale ne abbiamo appena visto l'ultima CBF l'idea di rendere responsabili legalmente per i danni che fanno all'ambiente è stata totalmente tolta per cui siamo in una situazione in cui questi qua fanno che vogliono e noi dietro possiamo solo lamentarci ma non diciamo dobbiamo uscire dall'ottica del lamentarsi cercare di trovare dove ci possa essere una possibilità di azione combinata stanno bene tutte le lotte che individualmente fate nei vostri comuni province regioni eccetera ma qua bisogna anche pensare a qualcosa che unisca forze voi avete provato col decalogo vedete che non è una maionese che riesca a prendere a livello nazionale quindi io il mio invito è capito con che pesce e cani abbiamo a che fare possiamo riflettere in modo di trovare un punto su cui possiamo imparare cioè iniziare ad agire insieme io credo che nella grande parola dell'educazione e ricordando è un'educazione che porti a ridurre le asimmetrie per cui la questione della sfera domestica secondo me ci sarà di dentro perché è l'educazione che formerà le future classi dirigenti cioè lo sappiamo non abbiamo mica bisogno di Bourdieu per capire queste cose qua Gabriella a te sì allora rispondo molto volentieri alla domanda di Enzo perché quando si parla di digitalizzazione si parla di competenze diciamo tra quella che è la prima criticità in assoluto che ci si pone o che ci si dovrebbe porre è proprio quella della diseguaglianza cioè la diseguaglianza che c'è tra chi padroneggia competenze digitali e chi non le padroneggia o ancora peggio le padroneggia ma senza essere consapevoli dei rischi a cui può incorrere per quanto riguarda il discorso degli anziani tra l'altro io qui ho dei dati che magari vi potrò approfondire su 50 milioni 50 quasi 51 milioni 50 virgola 87 milioni di scusate 59 milioni circa di abitanti dell'Italia il 51 virgola 2 per cento sono donne le donne sono quelle che hanno meno competenze digitali tutto sommato il 71 per cento degli italiani vive in spazi urbani per cui c'è una grossa differenza nell'uso del digitale tra chi vive negli spazi urbani o chi vive nelle periferie nelle campagne nelle montagne e così via e poi c'è una suddivisione tra fasce d'età di cui praticamente la fascia d'età maggiore della popolazione italiana che è il 24 virgola 3 per cento ha più di 65 anni per cui lungi da essere nativi digitali su questo abbiamo riflettuto devo dire anche i tempi in cui io lavoravo in regione riguardo a come in qualche modo rendere consapevole delle potenzialità del digitale non solo per aspetti di social media ludici eccetera ma anche per aspetti di apprendimento perché le tecnologie in questo possono essere molto utili nelle fasce più giovanili per cui addestrare i ragazzi abituare i ragazzi a utilizzare internet app e così via proprio per apprendere per scambi culturali eccetera eccetera e anche per esprimersi dal punto di vista imprenditoriale se si vuole perché le start-up nascono giovani le start-up giovanili nascono e qua mi collego anche a Paolo molto spesso non sono caratterizzate dal capitalismo predatorio passatemi questa affermazione ma hanno dei risvolti sociali perché ai giovani interessa inventare elaborare e fare qualcosa che ha risvolto positivo non guardano solo al business ecco per cui questo secondo me è un aspetto che va colto per quanto riguarda e rispondo più puntualmente a quello che mi ha chiesto Enzo l'utilizzo del digitale da parte della fascia di popolazione più anziana e avevo fatto passare un progetto proprio nella regione Friuli Venezia Giulia che è caratterizzata per questo io ho parlato anche di comuni di piccole comunità friulane e così via alcune altamente specializzate per cui ci sono anche grandi marchi adesso non voglio parlare della Grappa Nonino o del Caffè Illi eccetera ci sono grandi marchi nella nostra regione che nascono e che sono in conduzione familiare ok e anche questo caratterizza un territorio però la maggior parte della popolazione a parte Trieste e i grandi centri è ancora artigianale rurale e piccole aziende insomma di artigiani e così via alcune poi sono cresciute e sono diventate multinazionali e qua mi ritrovo in quello che ha detto Paolo e nel mio progetto avevo proprio per venire incontro a quello che per me è un processo di inclusione sul digitale delle popolazioni non delle fasce di età non native digitali e abbiamo realizzato un progetto con la regione di centri didattici digitali sparsi sul territorio 10 perché il filo libero di Zia Giulia bastavano 10 e a questo dove c'erano dei presidi anche proprio sportelli digitali per i cittadini e invece questo ancora non è stato a due anni dal mio pensionamento sono ancora in alto mare per cui in ogni rione della città o nel piccolo paese di montagna o di campagna del Friuli la proposta progettuale era quella di istituire uno sportello digitale dove il cittadino possa rivolgersi per svolgere le attività che purtroppo ad oggi possono essere fatte solo online ma ci sono ancora persone che non hanno il computer o che non hanno una stampante o che non hanno un collegamento internet decente per quanto il Friuli Venezia Giulia è abbastanza avanzato però se guardiamo il resto d'Italia la situazione è drammatica per cui questo concetto che è stato anche sviluppato in Emilia Romagna Cesena in altri ci sono degli esempi proprio virtuosi su questo a mio avviso proprio per quel principio che garantisca la partecipazione intesa come e-participation che è uno dei capisaldi dell'agenda digitale italiana questi centri potrebbero intanto ridurre quella che è l'ansia del digitale di certe fasce delle fasce della popolazione perché c'è un'ansia nell'utilizzare il digitale e nello stesso tempo mettere in condizioni le fasce appunto più deboli dal punto di vista digitale di ridurre la diseguaglianza nell'essere diciamo in qualche modo connessi diciamolo così è un progetto che si può fare è un progetto su cui gli investimenti non sarebbero neanche eccessivi ed è un progetto in cui si potrebbero impiegare e abbiamo fatto degli esperimenti io l'ho fatto nella mia azienda con gli stessi ragazzi perché avevamo organizzato dei percorsi chiamiamoli così in maniera volgare non i nipoti per cui i nipoti chiamavano a scuola i nonni in qualche modo e si organizzavano delle sessioni di digitalizzazione i nonni ci andavano per vedere il nipote che faceva l'insegnante intanto imparava qualcosa e se questo fosse poi supportato anche dalle istituzioni diciamo che sarebbero già un bel passo avanti si può volendo si può grazie Laura Cima deve dare delle risposte sì volevo rispondere alle due osservazioni che ha fatto Pinuccia sul Tribunale Internazionale dell'Ambiente e su OGM e ricordando i tempi in cui noi eravamo molto più forti perché adesso mi chiedevo sentendo tutta la nostra seconda lezione un giovane che si colleghi nella scuola perché so Pinuccia che voi come costituto manderete queste due nostre lezioni anche nelle scuole e quindi ci saranno studenti delle superiori e delle magari universitari spero non lo so che si che si collegheranno quante speranze gli stiamo trasmettendo con le nostre lezioni perché è fondamentale quello che avete detto tutti Paolo il suo discorso di fondo su partire dal rapporto uomo e donna nella famiglia per rovesciare e così via però anche quello che dicevi adesso tu Gabriella rispetto alla rete e in risposta a Enzo che chiedeva per gli anziani io mi pongo il problema la rete cos'è oggi per i giovani e mi pongo il problema che non è solo la condivisione del lavoro domestico è le violenze che dalla famiglia partono rispetto alle donne e come si fa come si fa a bloccare questo modo di esprimere una sessualità malata che viene invece perpetuata anche dai media perché è comodo cioè voglio dire il peso di tutte queste distrazioni che non permettono più di affrontare i problemi concreti e per esempio le crisi climatiche subiscono i ragazzi sono i ragazzi gli angeli del fango capite? cioè questo è il problema che ai ragazzi si lascia il ruolo degli angeli del fango non quelli che si mettono d'accordo con i contadini che come ho detto anche un po' nella mia esperienza hanno un carriere con due grandi albioni rovesciano sapere delle tecnologie industrializzate non naturali e così via che portano sempre il fiume inondare a fare bighe disastro eccetera tutto questo sapere vecchio che continua ad essere ritropposto per questo è importantissimo quello che dicevi Pinuccia che i tribunali internazionali dell'ambiente da una parte potrebbero mettere in rilievo le cose che Paolo denuncia le cose che abbiamo detto sulla situazione disastrosa delle guerre perché io continuo a dire che se noi non usiamo anche il discorso della non violenza che l'ecofeminismo porta e quindi come diceva Pinuccia riprendiamo magari in mano dei progetti per la riconversione delle fabbriche di armi io ricordo che allora la Beretta stava quasi pensando di chiudere e chiusa anche dei reparti oggi è più che mai tutte le armi del mondo le mine eccetera in giro per il mondo sono italiane cioè noi abbiamo un'economia basata sulla produzione di armi sostanzialmente e quindi dobbiamo trovare il modo io però francamente non so Pinuccia perché mi devi dire tu sei tu in contatto con Postiglione dove questo discorso è stato più ascoltato negli ultimi anni a me sembra che abbiamo perso molta grinta su questi temi e infatti vorrei anche ricordarvi un libro che ho prima citato ma non vi ho mandato l'illustrazione ve la manderò che è quello di Petrachelli perché Petrachelli con Alex Langer era andato in gira per il mondo per cercare di cambiare questa situazione cioè noi siamo molto chiusi è vero partiamo dalla comunità partiamo dalla famiglia ma poi se non riusciamo collegarci io ho parlato d'Europa ho tentato di capire se l'Europa poteva cambiare ed essere esistente politicamente e umanamente e socialmente e culturalmente ma io non lo so se noi siamo in grado più di dare ancora a quello che abbiamo dato allora i giovani che vanno in giro perché qui non trovano lavoro e quindi sono tutti in giro per il mondo tutti fanno esperienze poi magari si fermano là forse sanno dire di più di noi ma dobbiamo trovare il modo di farli parlare dobbiamo trovare il modo di farli esprimere poi magari possiamo anche mettere in discussione quello che succede nella rete che risolve le nostre incapacità e fa comodo a questo sistema penso per esempio all'educazione sessuale che degli adolescenti ricevono su YouPorn perché non la ricevono da nessun'altra parte capite che questo fa comodo alle lobby di cui parliamo delle armi della droga e delle multinazionali perché rende succubi totalmente a un modello di violenza che poi può continuare tranquillamente nelle guerre e in tutto il resto il patriarcato continua a prosperare pur morente quindi io penso che bisognerebbe provare a capire da Postiglione che l'ha proposto e l'ha portato avanti ma anche dai giovani se non sentono la necessità di avere un tribunale internazionale dell'ambiente che colpisce in qualche modo allora lo mettiamo insieme all'ONU per dire questo tribunale ma l'ONU già poco riesce a fare di per sé però bisogna trovare un organismo internazionale che in qualche misura risponda a queste esigenze e vorrei anche capire loro cosa pensano di questi organismi internazionali che appunto Paolo o no nelle sue due elezioni ci ha potuto vedere quanto poco incidano rispetto a liberare la situazione attuale e invece siano succubi poi di queste di queste di questi poteri l'altra cosa degli OGM è naturalmente sempre in quel periodo siamo partiti subito noi sulla manipolazione genetica non so perché per esempio Paolo non apprezzi la bandana sciva so che ha una serie di obiezioni però lei ha messo su una banca di semi che ha impedito che i contadini si suicidassero perché dopo avergli tolto con le dighe le grandi dighe con tutto le terre con il neocolonialismo i semi sono stata l'ultima barriera i semi geneticamente modificati come sapete sono sterili e quindi quando questi che manco lo sapevano provavano a ripiantare i semi come la tradizione di secoli hanno sempre fatto nella loro famiglia non veniva fuori niente bisognava comprare altri semi dalle multinazionali lo stesso discorso dei pesticidi della Baia che continua a portare avanti e quindi ha in qualche modo garantito anche una biodiversità la conservazione di una biodiversità perché il problema legato all'impedire la diffusione degli OGM è anche quello di salvaguardare la biodiversità perché se noi facciamo solo il discorso della famiglia che fai tu come facciamo per questi grandi problemi mondiali per esempio ogni WWF dice quante specie si sono estinte ogni tot e aumenta a dismisura l'estinzione delle specie per cui questo è un andare verso la fine del mondo che proprio questo modello di sviluppo porta io non so pinuccia come facciamo a coinvolgere come attori i giovani cioè a farli parlare perché se no noi temo che trasmettiamo un po' stanchezza che è quella che abbiamo trasmettiamo un po' delusione trasmettiamo un po' la nostra speranza tradita di un altro mondo possibile perché in realtà non ci crediamo più tanto e lo diciamo anche mentre parliamo che questa situazione si porti ad un altro mondo possibile io vorrei proprio capire se questo corso può essere avere una lezione in cui ci sono tutti i giovani che si esprimono che si confrontano e noi li stiamo ad ascoltare perché da qui dovremmo partire io purtroppo sono tanti anni che non insegno più ma ho imparato tantissimo dei miei studenti e credo che dovremmo fare altrettanto anche noi in questo corso altrimenti come dire falliamo l'obiettivo di lasciare spazio nel rapporto umano e non nella rete dove purtroppo invece le cose negative sono gli odiatori le fake news la sessualità deviata sono le cose che frequentano i giovani da piccoli quando ancora non sanno discernere e non non riusciamo la scuola non riesce la famiglia non riesce non riusciamo io sono molto agitata per esempio ogni volta questo l'ho citato all'inizio questi due ragazzi che sono spariti avevano 22 anni hanno 22 anni e io immagino che non siano finiti bene perché lui era un ex fidanzato come il solito e lei non voleva lasciare capite che non si può continuare ad avere dei modelli di questo tipo che sono indotti dalla situazione io vorrei parlare anche con dei ragazzi che non sono nei riformatori per esempio ci andavo io quando ero potevo andare anche nelle carceri e così via perché è fondamentale avevo proprio un rapporto anche con gli educatori e così via non lo so insomma mi sembra che il problema dell'educazione che tutti avete citato però non ce l'abbiamo così chiaro per lasciare il protagonismo ai giovani non so Finuccia se ho risposto in qualche modo alle tue obiezioni io ho moltissima nostalgia di quei tempi so che Alex è morto per una guerra quella dei Balcani no? per non aver saputo non essere riuscito non aver difeso Sembrenica e tutto quello che stava succedendo non vorrei che siccome i suicidi dei giovani aumentano a dismisura e il disagio giovanile è spaventoso questo clima di guerra di violenza continua veramente non lasci molto spazio ai ragazzi mi pare che il caso città se posso dire una cosa scusate noi non stiamo dando voce ai ragazzi noi i media non danno voce ai ragazzi come non si danno voce scusa Pinuccia una riflessione io mi sono resa conto cioè basta prendere un giornale in mano sostanzialmente i ragazzi sono tutti in rete è in rete e noi sappiamo che portiamo tutti i nostri difetti a cominciare dagli stereotipi di genere che si moltiplicano si amplificano eccetera e i ragazzi sono lì e i ragazzi sono lì per cui tutta una serie di normative che anche l'Europa faticosamente adesso sta cercando di di introdurre ma anche negli algoritmi di intelligenza artificiale eccetera eccetera e su quello che bisogna un po' insistere e far lavorare proprio i ragazzi su queste cose perché loro loro sono lì ok e preda di tutta una serie di come dicevi tu fake news truffe comportamenti violenti stereotipi di genere ma anche inconsapevoli no in qualche modo e lì forse che loro potrebbero sono digitalizzati sono attivi digitali dovremmo a loro lasciare questi spazi chiedo scusa ti pare che il caso citato da Paolo Groppo non fosse a Trieste sbaglio Laura sì 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 era la A2A in Veneto Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia giusto sì 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 la 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 consiglia regionale del Friuli quindi la Serena Pellegrini la possiamo conoscere Pinuccio no volevo solo dire che con Postiglione si continua ad agire su tre livelli il primo livello è quello della 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 sollecitare i governi a livello proprio globale ecco perché comunque si assuma assumano le responsabilità rispetto alla governance al problema della governance ambientale il secondo livello di azione e qui ogni anno viene fatto questo momento proprio di stimola il secondo livello è quello del far emergere i danni ambientali quindi andare sempre a indagare dove sono nascosti e non si vedono e dove invece hanno una 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 significativa insomma espressione e l'altro livello è quello proprio della formazione dell'educazione e lì abbiamo costituito grazie alla Maria Rosa Ronzoni che oggi non vedo ma forse è impegnata che era docente insomma all'università di urbanistica all'università di Bergamo e grazie appunto ai suoi studenti abbiamo costituito questo gruppo che si chiama giustizia ambientale potrebbe essere che nei prossimi incontri invitiamo ad esempio Antonio che sta in America Latina perché loro hanno proprio cercato di proseguire il lavoro non solo attraverso la tesi che gli ha fatto fare Maria Rosa quindi un lavoro enorme perché Maria Rosa aveva lavorato proprio su questa banca dati ambientale ma anche proprio come scelta di vita quindi alcuni di loro hanno fatto una scelta di vita interessante quindi ogni tanto appunto noi siamo in contatto con questa chat che si chiama giustizia ambientale e devo dire che sono tutti giovani quindi giovani che sono in Sudafrica giovani che sono soprattutto quelli che sono andati come dicevi tu all'estero e che lì maturano appunto un'esperienza interessante quindi potremmo in effetti pensare a un certo punto magari a una seconda relazione nostra dove c'è anche Maria Rosa di chiedere magari un intervento anche solo di un quarto d'ora venti minuti che però insomma mostri come dal loro punto di vista stanno agendo per cambiare un po' il mondo insomma quello che cerchiamo di fare noi abbiamo sempre cercato di fare scusate diamogli voce diamogli voce sì sì lo faremo allora diamogli voce penso scusate io volevo ricorregarmi ancora a quello che avevo chiesto prima sostanzialmente negli Stati Uniti quando erano furbi nelle nelle fabbriche facevano delle procedure e poi chiamavano un operaio medio e la facevano attuare dopodiché facevano il debugging della procedure dura per cui io non lascerei i software sviluppati dall'informatico e basta cioè bisognerebbe quando hanno fatto un software un'applicazione chiamare un utente medio e dire adesso facciamo il debugging perché magari ma dico non per le cose per i software specifici ma per quelli che poi vengono utilizzati dal diciamo dalle persone comuni scusate per l'osservazione ma è un mio pallino no guarda Maria Teresa scusa se posso farti un paragone che mi viene in mente e come sai in sanità adesso a proposito della velocità di esecuzione dei lavori e adesso si privatizza sempre di più determinati servizi allora l'ultima che ho sentito è che adesso i prelievi di sangue presso i distretti sanitari vengono sono stati assegnati a una cooperativa privata che saranno infermieri eccetera eccetera bene come livello di velocità gli famosi la eccetera ogni è previsto che venga fatto un prelievo ogni tre minuti e qui non si tratta di software chiudo Maria Teresa io volevo intanto ringraziare Laura per il suo intervento perché l'ho apprezzato moltissimo e il discorso dei giovani anche io ho insegnato e sono tanti anni che non insegno adesso forse dovremmo porci il discorso che faceva Pinuccia poi io ho chiesto la parola e Pinuccia ha detto un po' quello che volevo precisare darci come obiettivo sempre il tramite degli insegnanti perché i giovani non li raggiungiamo direttamente secondo me per avere l'attenzione dei giovani bisogna passare attraverso l'autorevolezza dei loro insegnanti e allora si muovono perché sennò continueranno a restare gli angeli del fango mi è piaciuta moltissimo quella definizione e quindi darci come obiettivo il coinvolgimento di insegnanti che possano coinvolgere i loro ragazzi o i loro studenti universitari ma insomma in ogni fascia di età mi sembrerebbe una cosa molto importante se no davvero trasmettiamo la nostra stanchezza io quando parlava Paolo ho un messaggio di speranza proprio senza speranza non riusciremo mai a fare niente tutte queste considerazioni mi portano a rinchiudermi nel mio privato il mio gatto la mia casa e gli strumenti informatici che per fortuna essendo un fisico di formazione so gestirmi bene e dopodiché chiudo completamente perché non posso combattere contro quel livello di non parliamo delle guerre ho comienzo di guardare i telegiornali voglio dire sento la radio perché le immagini mi disturbano proprio psicologicamente quindi forse cercare attraverso gli insegnanti di raggiungere un'utenza diversa grazie mi permetto di dire come abbiamo fatto come il coistituto con il progetto sentinale dell'aria sì su questo anch'io facevo questa riflessione è un processo difficile però il problema però d'altra parte se non si come dire punta su un diverso modo di fare educazione e formazione secondo me non ne usciamo quindi da una parte può essere diciamo così allora io ho sempre pensato che diciamo ci deve essere una forma di gemellaggio tra la vecchia generazione la nostra e la nuova perché noi abbiamo delle esperienze che i ragazzi non hanno abbiamo passato anche queste varie rivoluzioni tecnologiche noi su cui meno male siamo io sono passato dal regolo calcolatore appunto al computer che so anche usare con una certa con qualche difficoltà e quindi questa esperienza l'abbiamo fatta è possibile fare questo passaggio l'altra riflessione che veniva anche da oggi la stanchezza di chi come me ancora di più ovviamente con Laura Cima che come dire ha operato del movimento verde è stata una grande esperienza che adesso si è completamente come dire ha perso vigore peraltro anche è vero che abbiamo seminato io non credo che sia stato inutile tutto il lavoro che appunto intanto in poche abbiamo fatto il problema è vedere come appunto reagire a questo messaggio disperante che è stato dato che ha disperato anche me che peraltro è un messaggio reale il mio ragionamento è che chi sta continuando a pensare che accumulare risorse che in maniera delaro sia l'unico modo di poter l'unico scopo della loro vita è destinato al collo non ha futuro tutto questo il problema è reagire a queste scelte scellerate che rischiano di poter come dire decretare una fine precoce del genere umano perché di questo stiamo parlando che cosa fare ebbene vabbè certo intanto far sapere far girare queste informazioni perché sono estremamente importanti dando anche comunque segnali di speranza e segnali di speranza sono forse anche le piccole tante cose che comunque si fanno e che quindi devono essere come dire aggregate per diventare per far capire che comunque un mondo diverso è possibile ed è questo e non è solo uno slogan questo è possibile veramente quindi tanti come dire tante piccole esperienze che aggregano le realtà è una realtà che stiamo vivendo questi giorni anche a Genova di come i vari comitati ognuno per conto suo perché sta affrontando con forze impari tutta una serie di problematiche si stanno riunendo perché l'altro tema che è stato anche sollevato è di una classe politica assolutamente inadeguata e noi dobbiamo in qualche modo fare in modo che cresca una nuova classe politica con gli strumenti giusti per poter affrontare le gravi prove che ci vengono davanti io posso se posso dare una mia piccola esperienza personale la mia formazione l'ho dovuta proprio al movimento scottistico io come dire sono cresciuto e mi sono formato lì e lì mi sono stato messo alla prova e ho visto che queste prove potrei essere in grado di affrontarle esistono ancora queste possibilità per i nuovi giovani oppure ognuno si chiude il suo appunto in questo suo mondo diciamo isolato dove si pensa di comunicare con tutti perché gli danno queste possibilità appunto i social e quant'altro poi in realtà non c'è la possibilità di confrontarsi con propri simili anche con adulti che a loro volta possono essere di esempio per la loro formazione quindi diciamo dal messaggio di speranza che è uscito da questi due incontri dovrebbe forse anche uscire da parte nostra un messaggio di speranza per come possibile sia possibile lavorare insieme per poter affrontare insieme problemi veramente che l'umanità non ha mai affrontato a questi livelli e cercare di trovare delle soluzioni secondo me è un problema dell'aggregazione quindi farcecolare le informazioni e mettere insieme le esperienze positive che comunque ci sono in questo paese sia a livello locale che a livello nazionale forse anche a livello internazionale dobbiamo lavorarci quindi è costituto comunque questo compito se lo deve porre e poter affrontare ancora di più io proprio oggi ho ricevuto un invito a parlare di un comitato dove si è chiesta la si è conosciuta come dire le competenze che ho all'interno del costituto e quindi vedremo un po' io venerdì l'incontro e vedremo come insieme poter aiutarli a risolvere questo piccolo problema che è un problema di impatto ambientale appunto di una società che se ne strabatte delle regole e pensa di fare quello che vuole fare il proprio business sto parlando di una vuol dire un'azienda che si è stato messo all'interno nelle parti molassana che ha l'alpalto dell'asfaltatura di tutte le autostrade italiane quindi potete immaginarvi con quali interessi e pensa di poter fare il comodo suo rispetto anche all'impatto ambientale che la sua attività sta attuando ecco insomma ripeto abbiamo una bella sfida di fronte e Maria Teresa sì io scusate ho richiesto la parola perché non ho dimenticato ma ho tralasciato una cosa importantissima e metto lì un carico da 90 perché non è solo una questione di mercato e di soldi è una questione di potere e uno dei segnali più tragici della nostra epoca sono i femminicidi e di questo vorrei sapere cosa pensano i giovani perché io non riesco proprio con la mia esperienza di femminismo la mia storia a capire come parlare su questo argomento perché io credo che dovrebbero essere gli uomini a parlarne tra di loro chiudendosi in una stanza però forse se vogliamo appunto affrontare i problemi di oggi non possiamo parlare solo di mercato e di soldi non sono solo le multinazionali che creano violenza perché quella quotidiana in famiglia diceva Paolo sì la maggior parte avviene anche lì ci dobbiamo mettere anche questo non so come ma lo volevo dire Paolo Groppo ci deve lasciare quindi se vuole dire qualcosa conclusione anch'io scusate che avevo rimandato una telefonata saluto tutti se vogliamo un ultimo messaggio non di speranza ma esattamente il contrario è appena arrivato sulla pagina dei quotidiani un messaggio che riguarda l'organizzazione mondiale della sanità centinaia di donne congolesi sono state violentate da funzionari dell'OMS e sono state rimborsate con 150 dollari a testa questo è il mondo con cui abbiamo a che fare parlando di violenza sì ma per dire che non c'è nemmeno più un minimo di cultura all'interno nemmeno delle Nazioni Unite su questi temi per quello che ripeto diciamo capisco che la prima impressione di questi webinar sia stata è un casino troppo grande ma era un po' anche quella l'idea di dirvi guardate che questa è la realtà sintetizzata perché probabilmente è ancora peggio di questa perché come dicevo questi stanno sempre uno o più passi avanti rispetto a noi quindi non è per dire non si può fare nulla ma è per dire cerchiamo di capire dove possano esserci delle possibili azioni quindi il mezzo è quello dell'educazione quindi delle scuole e quindi degli insegnanti benissimo dobbiamo prima però capirci fra di noi il messaggio quindi cosa vogliamo andare a dire quindi qualcuno che si occupi di trovare i canali per far passare questi messaggi attraverso scuole associazioni quello che sia ma dal mio punto di vista c'è qualcosa che i giovani possano fare concretamente non solo dire vado a battermi vado a fare una manifestazione con Greta e compagnia quello e lascia il tempo che trova qualcosa che puoi cambiare a partire dal momento in cui tu esci dal corso e del tuo comportamento nei confronti della persona dell'altro sesso con cui hai rapporti di amicizia di amore di convivenza quello che sia è lì dove secondo me noi possiamo dare un messaggio per il futuro perché se no diciamo se li mettiamo chiaramente solo a mostrare di quanto incasinato il mondo e quanto forti sono gli altri togliamo tutte le speranze ma noi vogliamo darle una speranza io sono un esempio che sono diventato un ecofeminista non grazie alla scuola non grazie a nessuno che non sia stata eventualmente mia figlia la prima a portarmi su questa trada ma ho capito che possiamo cambiare anche noi maschi e quando parlo con gli amici di mia figlia che quindi hanno 30 anni di meno i loro rapporti con i loro compagni sono diversi da come erano all'epoca dei miei genitori e dei miei nonni quindi secondo me noi dobbiamo arrivare a pensare a un corso questo o il prossimo dove alla fine ci sia un messaggio di dire tu persona partecipante giovane che ascolti questo corso sappi che alla fine tu puoi cominciare a cambiare cambierai il mondo forse un domani quello che tutti vorremmo ma puoi cominciare per cambiare il mondo devi cambiare te stesso e quello lo puoi fare tu non dipende né da tuo padre da tua madre dipende dalla tua volontà comincia a fare il tuo letto la mattina comincia a mettere in ordine la tua camera comincia a rispettare gli altri e allora cominciamo a costruire qualcosa di diverso piccolo ma si può fare vi saluto tutte perché il mio compito di aiutante in cucina perché mi reclamano giù da basso direi a questo punto di chiudere e chiudiamo chiudiamo ciao grazie grazie ringraziamo tutti ringraziamo tutti e allora alla prossima e ricordiamo solo il prossimo appuntamento direi grazie Cristofere per il tuo prezioso lavoro grazie ci mancherebbe buona serata a tutti grazie a tutti